Brevemente, allora voglio dire che la BBC pubblica in testa al suo bilancio un sondaggio nel quale si esprime il gradimento per l'informazione che fa la BBC. L'errore che fa sorge a mio parere, diciamo con tutto il rispetto del caso, è di confondere l'informazione con la politica. Ciò che io pongo è il fatto che l'informazione debba rappresentare il complesso dell'opinione pubblica, quindi se c'è un 51, un 45, un 40 o un 30% di opinione che è contraria all'invio di armi, questa opinione deve essere rappresentata dall'informazione. Poi il governo prenderà le sue decisioni, il voto, sono tutta un'altra cosa. La RAI la paghiamo tutti, la paghiamo anche quelli che siamo contrari all'invio di armi e pretendiamo che i telegiornali della RAI tengono conto nella fabbricazione delle notizie di questa opinione. Questa è una pretesa legittima perché è una pretesa fatta da chi paga il servizio pubblico e ne viene espropriato dal governo, il quale già espropia in parte gli italiani perché viene espresso ormai quasi da una minoranza. Vogliamo arrivare al fatto che la stragrande maggioranza degli italiani non va a votare perché non si riconosce non solo nei politici ma anche nell'informazione? Io mi auguro che la democrazia del futuro non sia questa. Se poi voi volete questo tipo di informazione e questo tipo di democrazia io dico tenetevela perché personalmente non mi interessa far parte di un mondo nel quale la maggioranza delle persone non si può più esprimere né sul piano informativo né sul piano politico. Però scusa Michele così non dai per scontato. Noi ci rivoltiamo, ci ribelliamo e ci ribelleremo sempre. Quindi se poi Sorgi vuole capire che sono persone vere e non semplicemente sondaggi venga a fare un giro con me qui a Roma, giriamo insieme per le strade e così vedrà sui tram, alle fermate dei bus, dovunque. Qual è l'opinione che hanno gli italiani? Che non la vogliono la guerra, non la vogliono la guerra, non vogliono l'escalation, lo volete capire sì o no? E non lo vogliamo digerire questo potere che ci deve far digerire per forza la guerra, non lo vogliamo digerire. Detto questo dite quello che volete perché scusate non posso partecipare a un dibattito che io non vedo e non sento bene. Ho detto la mia, adesso dite la vostra, come al solito spero non mi dipingiate come filo Putin contro la Nato, non sono contro la Nato, sono contro Putin, sono l'unico giornalista televisivo italiano che ha fatto un documentario sulla Cecenia, mentre gli altri se ne fregavano della Cecenia perché il massacro che faceva Putin andava nell'interesse dell'Occidente. Quindi se ne sono fregati in Siria, se ne sono fregati in Cecenia, adesso ogni volta mi ricordano la Cecenia, a me che ci sono andato in Cecenia e gli altri non ci sono mai andati e i giornali non se ne sono occupati, va bene? Questa è la situazione. Scusate se ogni volta mi devo appassionare. No, no, ma non hai perso la passione, questa è una gran buona notizia Michele.